Tolo è ricordata soprattutto per la sua partecipazione a diversi film di genere Peplum, 5 titoli nel solo 1964, Spaghetti Western, film dell'orrore e di spionaggio, commedia all'italiana e commedia erotiche all'italiana. Ha lavorato anche come modella per noti stilisti, tra cui Valentino, per la televisione, dove ha esordito poco più che adolescente come valletta di Mario Riva. Nella trasmissione il musiciere ha interpretato miniserie televisive ma è anche l'unica attrice italiana a poter vantare una partecipazione come West Star nella serie Cult Charlie's Angels. Nell'episodio Angeline Defiance, il suo debutto nel cinema risale al 1960, con la partecipazione al film Urlatori alla sbarra. La sua filmografia è composta da decine di pellicole appartenenti prevalentemente al cinema di genere, anche se non mancano le eccezioni costituite da alcuni film d'autore come Giulietta degli Spiriti, di Federico Fellini, matrimonio all'italiana di Vittorio De Sica e sogni e bisogni di Sergio Citti. Nel 2001 ha preso parte al documentario Corto Superman. Screen Tasels. Ha posato nuda per l'edizione italiana di Playboy. Le sue foto sono state pubblicate sul numero di novembre 1983.